Il questore di Crotone ha emesso due d'aspo a carico di due tifosi della squadra del Crotone Calcio che in occasione degli incontri Crotone Cosenza e Crotone Frosinone, che si sono disputate rispettivamente il 23 febbraio del 2022 e il 15 marzo del 2022 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, si sono resi responsabili di accensione e lancio di fumogeni sul campo di gioco dal settore Curva Sud, costringendo il direttore di gara a sospendere temporaneamente le partite. In particolare quasi allo scadere del secondo tempo dell'incontro di calcio, Crotone Cosenza, un tifoso dalla Curva Sud, ha lanciato sul campo di gioco un fumogeno e una bottiglietta d'acqua in plastica piena. In occasione dell'incontro Crotone Frosinone, invece un tifoso dal medesimo settore, sempre alla fine del secondo tempo dopo aver acceso un fumogeno di colore blu, lo lanciava sul campo di gioco a ridosso dell'area di rigore. I due tifosi per i medesimi fatti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone dalla locale Digos, che grazie alla scrupolosa analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso lo stadio Pitagorico, ha ricostruito i fatti contestati ed individuato i responsabili. Ad entrambi il questore ha combinato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive della durata di due anni.